Sono Pizzente Bianco, sono il Presidente dell'Ambasciata Culturale della Sardinia in Berlino e anche a voce della comunità sarda di Berlino vi porto i saluti e i ringraziamenti per aver organizzato questa giornata che per noi sardi è molto importante perché veniamo ascoltati a livello europeo, è un inizio come spero. Volevo solamente dire che il problema delle servitù militari in Sardinia è un problema che pesa sulla nostra terra e sui nostri cuori ma non è l'unico purtroppo. Il problema di Quirra è un problema che pesa la nostra terra e i nostri cuori ma non è neanche questo l'unico purtroppo. Decimomanno, Teolada, Capofrasca e qui andando via. Io quando ho sentito che c'era la possibilità di venire qua per un'audienza il mio cuore si è riempito di gioia e era anche un po' titubante perché sono d'accordo che Quirra, visto che trattiamo di Quirra, Decimomanno, Teolada e tutti questi posti sono veramente un dramma. Ma io penso che non sia solamente un dramma, penso che sia anche un risultato di una gestione politica che non è stata svolta guardando a noi sardi e la nostra terra. Penso che sia stata una delle decisioni politiche più che altro guardando da tutte le parti meno che a noi negli occhi e sulla nostra terra. E mi auguro che questo qua sia solamente un inizio di una serie di incontri dove possiamo essere ascoltati in tutte le diversità perché siamo solamente uniti nelle nostre diversità. Tante grazie.